Quindi noi eravamo su questo treno che aveva appena investito un uomo E oggi siamo qui, oggi siamo qui, tornati con il prossimo BLOXMAS Ciao ragazzi, come state? Tutto a posto? Manca pochissimo a Natale Volevo scusarmi se ci sono stati alcuni buchi in questi giorni Ma, come vi ho spiegato nel video precedente, sono stata poco bene E per questo ho pensato di più a riportarmi Comunque, detto questo, oggi ragazzi sono qui per parlarvi di una mega notizia Che diciamo vi ho annunciato qualche mese fa Però, però, però Sono qui a distanza di quasi un mese da questa notizia Per raccontarvi quello che mi è successo durante un viaggio Ho qui davanti a me il mio telefono Perché sto leggendo proprio sul sito dove hanno messo questa notizia Per appunto darvi la prova che tutto questo esiste E che non è una cosa che mi sto inventando La fonte che ho trovato appunto Dove vi spiega proprio coi dettagli Quello che è successo a bordo di questo treno Ve la lascio qui sotto in bio Quindi il link è qui sotto in bio Per chi appunto vuole andarsi a informare un pochino di più Tutto questo ragazzi è successo il 6 novembre Quando io e mia mamma stavamo tornando da Palermo Come vi ho raccontato già tutta la storia di Palermo Non è perché stavamo là eccetera eccetera Stavamo tornando da Palermo E appunto il treno nostro Essendo che passava da un'isola Perché dalla Sicilia alla Calabria Mamma mia mamma Non lo so Informata sulla geografia Sì ragazzi Non uccidetemi se mi sto sbagliando Però in questo momento Sì la Calabria Doveva essere la Calabria Si fa tutto quanto il tratto Per arrivare fino a Roma E appunto si passa anche per Napoli Tutto questo ragazzi è successo il 6 novembre E ora vi leggerò attentamente Quello che hanno scritto sul sito di Roma Today L'ho letto proprio il giorno dopo L'ho letta questa notizia Ho detto Vedi Lo sapevo io Lo sapevo che era successo qualcosa Investimento mortale sulla linea ferroviare A Roma-Napoli Dove una persona è deciduta Dopo essere stata travolta Da un convoglio Fra le stazioni Minti-Minturo E Scauri E Formia Non so che stazioni siano E accaduto nel pomeriggio di ieri 6 novembre A perdere la vita di un uomo di 50 anni Morto sul colpo Non è ancora chiaro Se si è tratto di un cicidio O al momento l'ipotesi più accreditata O di un investimento accidentale Per conseguire intervento dell'autorità giudistiera La circolazione del treno è stata sospesa A partire dalle 16.35 Infatti noi ragazzi Eravamo su quel treno E ci siamo fermati All'incirca per una ventina di minuti Non so per rimuovere il corpo Aspettare la pulizia Questo io lo so perché io ero a bordo del treno Io mi sono un attimo Tra virgolette spaventata Dicendo ma che cosa sarà successo Di così grave da fermare il treno Allora delle voci così metropolitane Che appunto stavano lì fuori C'è arrivata notizia Che un uomo era stato colpito da questo treno Io ho detto no ragazzi Non è possibile che un uomo sia stato colpito da questo treno Poi ho detto Ma guardate proprio il caso Che l'ha fatto coprire proprio dal nostro Però questo non c'entra niente Siamo io la vita Che ogni tanto mi mandano queste sfortune Comunque ragazzi Io innanzitutto vorrei dire Pace all'anima di quest'uomo Che adesso non so se si è suicidato Perché se si è suicidato ragazzi Non ho commenti Però se c'è stato un incidente così Che ha colpito questo treno Quest'uomo Vorrei tanto capire Quest'uomo cosa ci faceva sul binario Cioè questo voglio capire Come caspita c'è finito là Se c'è stato un incidente comunque accidentale Come caspita ci sei finito sui binari Ma comunque è stato di fatto ragazzi Che è successo questa cosa E come stavo dicendo Pace all'anima dell'uomo che è morto E pace anche all'anima della famiglia Però la cosa che vorrei dire io Principalmente è che non capisco La morte Perché opto più sul suicidio Perché un incidente così Accidentale appunto Non lo so Perché questa persona Si doveva trovare proprio lì sui binari Per un motivo Cioè ragazzi Non è che tu ti metti sui binari Perché oh mio dio Stai vogliono una passeggiata Quindi Non lo so Non lo so Non so cosa pensare Però sta di fatto che comunque Molti di voi mi hanno chiesto Di raccontare appunto questa storia E questa appunto era la storia Di quello che è successo Non 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 voglio dire che Sono stata tutta il resto del viaggio Con l'angoscia Perché Giravano voci Che è morto Poi altri dicevano di no Poi altri dicevano che hanno beccato un animale Un'altra dicevano che ha beccato un uomo Un'altra hanno detto pure che c'era un bambino Io ho detto ragazzi Ma come è possibile C'è stato un bambino Sui binari Santo Dio E alla fine Si è scoperto appunto Leggendo appunto Su Roma Today Perché ogni tanto Leggo anch'io Il giornale Anche se non si direbbe Che appunto Questo uomo È stato colpito Proprio in pieno Da questo treno Che non in questo viaggio Ragazzi Per il parere Non è che ci sono successe Tante di quelle disgrazie No Mettiamoci anche La morte di un povero uomo Sotto i binari Del nostro treno Comunque Questa era la storia di oggi Ragazzi Spero che in qualche modo Vi sia piaciuta Che poi di piaciuta Alla fine non c'è niente Perché alla fine Si parla comunque Di una morte di un uomo Fatemi sapere Qui sotto nei commenti Cosa ne pensate Di questa storia E fatemi anche sapere Qui sotto nei commenti Se vi è successa Una cosa così strana Una cosa così Bislacca E vi ricordo Che vi lascio il link Qui sotto nella descrizione Della appunto Della notizia Per darvi la prova Certa Che appunto Questa cosa è successa davvero E chi mi segue su Instagram Lo sapeva già da Tipo Un mese Perché Avevo fatto una storia Dicendo ragazzi Mi sa che è successo qualcosa Mi sa che hanno investito Un uomo Con il nostro treno Questo ancora non lo so Ci sa qualche ragazzo O ragazza che sia Che appunto Può darvi la prova Che tutto ciò È successo Detto questo Niente ragazzi Io spero che questo video In qualche modo Vi sia piaciuto Io vi mando Un grande bacio E niente Noi ci vediamo domani Con un nuovo Vlogsmas Alle ore 15 e 30 E niente Qui si riesce tutto Bella Grazie.